Filo spinato in posizione. Uccisione. Uccisione. Attivazione destabilizzatore. Costruisco una barricata. Metto un filo spinato. Costruisco una barricata. Costruisco una barricata. Costruisco una barricata. Filo spinato in posizione. 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 Bello spinato in posizione. Filo 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 spinato in posizione. L'ospedante non è ancora appagato! Sei finito sulla mia lista nera, amico. L'ospedale è finita! Un'altra attente! Calfettiere! Allora è quella la carattere. Quelle piastre! Quelle piastrelle si macchieranno tutte. E anche i tubi non dureranno molto. Come rovinare una splendida sala da bagno. Un'imbarcazione funebre per un vero guerriero. Manca solo una fanciulla in stato di prezza che si getti nella pira insieme a noi. Gran bella tradizione. Un'ospedante che ha bagnato le mie occhie! Fatemene ancora, facce dorate! Il campione di Odeno è sconfetto! Riposa in pace, gattini. Uno sfidante che ama i campioni di Zeus! Tizio armato di asce in arrivo. Attenti, gli piace lanciarne. E i campioni di Zeus sono sconfetti! Questo lo tengo. Ancilla. Gatti! Gatti! Eccolo! Gatti! Guardate che posto. Io ho già visto queste incisioni. Con le figure sulle colonne. Nel diario di mio padre? Uccidete quelli blu. Rendono più forti gli altri. Che hanno quelli blu? Sembra ci stiano evitando. La trova a termine. Non costringetemi a farvi male. Fanculo, tanto lo farò lo stesso. Carca puttana che puzza! Non so che esattamente il sacerdote, ma si sta ammazzando di lui. Una sfida superata! Complimenti, Scar, hai capito un grande tatto. Il faraone sta cercando di guadagnarsi un posto in paradiso. Mi ricorda qualcuno. Unos pirante si aferra un tiro! Sarà soddisfatto? Riprovaci e ti ficco quell'assiglio di merda giù per la gola. Non può essere utile. Ma certo! Fiammate dal pavimento. Bel trucchetto. Mi piace, succede. Un altro lottatore con le mani appuntite. Uno non bastava. Che c'è? Mai vista una ragazza con un martello magico? Un altro lottatore con un martello magico? ечca! Ok. No, no, no! Na! Grazie a tutti. 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 Non so... Non so... Munizia... Sembra... Non so... Non so... Qualcuno... Continuate a... Andar... Un... Giu... E... Che... Che... Carica... Do... Uno... Do... E... E... Beh... E... No... E... 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 Se... Tenete... E... 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 E...